Grazie e buonasera. Dottor Zanini. Ma per quanto riguarda l'orario, di solito il mattino alle 8, quando c'è il massimo livello di cortisolo, è anche il momento in cui la pressione è più alta. Dopodiché però, se uno beve tre caffè subito dopo mangiato, sono i tre caffè, non l'orario che scatena la crisi ipertensiva. Se uno va a fare un esame alle 6 di sera, è l'esame che alza la pressione. Per cui comunque il mattino è l'ora in cui la pressione normalmente... Ma subito dopo che ci si è alzati, oppure aspettare un po'... Sì, dopo il risveglio, ma comunque il picco del cortisolo è verso le 8 del mattino, per cui probabilmente dal punto di vista biologico siamo stati programmati, perché col mattino si comincia a lavorare. C'è il massimo anche di risposta, di catecolamine, il sistema endocrino. Per quanto riguarda il danno d'organo, anche se una volta si differenziava molto il significato della massima e della minima, adesso si parla di ipertensione. Comunque credo che per il danno renale è più importante probabilmente la minima. Se invece uno pensa all'ictus, è più importante probabilmente la massima. Cioè è più facile che la sistolica alta possa provocare l'ictus e una minima alta per molto tempo possa dare un danno d'organo a livello renale. Poi credo che per il cuore invece tutte e due, sia la sistolica che la diastolica, sono importanti nel determinare un danno d'organo. Credo che dipenda più dalla lunghezza, da quanti anni uno ha la pressione alta. Ecco, torno un attimo sul discorso misurazione. Abbiamo detto la mattina, una persona che se la tiene controllata a casa la pressione, quante volte dovrebbe misurarsela oppure basta soltanto la mattina o c'è qualche condizione particolare per cui magari, non so, si dice, per una settimana uno la controlla tre, quattro volte al giorno. C'è qualche indicazione proprio generica da dare ai telespettatori che magari hanno bisogno di tenersela controllata per un po'? Perché a volte paura che gli venga anche l'ansia ad una persona sempre lì a provarsi la pressione e questo contribuisca anche magari ad alterare in qualche modo. A mio avviso ci vuole un po' di buonsenso, nel senso che se uno ha appena scoperto di essere iperteso è giustificato che la misuri più volte. Se uno è in trattamento da anni per l'ipertensione sa come di solito varia la pressione. Quello che è importante è che magari si sottovaluta il cambio di stagione. Per esempio quando si passa dall'estate all'autunno e c'è il cambiamento proprio di stagione, lì la pressione tende a salire perché la pressione è più alta d'inverno quando fa freddo e si abbassa d'estate, per cui ipertesi sanno che anche la terapia non resta stabile tutto l'anno. Uno dovrebbe parzialmente diminuirla in estate oppure aumentarla in inverno. Però per esempio 15 giorni fa, abbiamo avuto 15-20 giorni fa il cambio di stagione, quando c'è il cambio di stagione è più facile che ci siano degli sbalzi, per cui magari è un periodo in cui va controllato di più. Poi soprattutto anche lo stress, lo stress è un altro fattore importante, per cui se uno sa che da 15 giorni ha avuto motivi familiari o di lavoro particolarmente stressanti può anche misurarla qualche volta di più. Ecco, dottoressa Iannone, un po' il discorso anche della misurazione della pressione, abbiamo detto che molti se la misurano a casa, quindi quanto sono affidabili gli strumenti per misurarsela fai da te a casa? Allora, di sicuro il più affidabile è quello che misura la pressione al braccio, e ricordiamo sempre di metterla all'altezza del cuore, così la misurazione è più corretta, e poi nel dubbio fare sempre il confronto con la misurazione del proprio medico, del farmacista. Ecco, una cosa vorrei aggiungere a proposito di quanto spesso misurarla, la cosa può creare ansia, ma può creare anche un altro fenomeno che è altrettanto pericoloso, cioè l'autosomministrazione del dosaggio di farmaci, in base al valore rilevato, mi dimezzo o mi aumento la terapia, che è una cosa non corretta, bisognerebbe sempre seguire le prescrizioni del medico e tenere la terapia sempre costante nel tempo, senza fluttuazioni, soprattutto giornaliere, perché il farmaco ha comunque una durata, un tempo di azione che varia da farmaco a farmaco, e quindi è bene affidarsi a uno specialista nelle variazioni. Faccio una domanda a questo proposito, nel caso in cui una persona sta facendo una terapia, poi si trova qualche giorno con la pressione più bassa, diciamo, del normale, in alcuni casi forse c'è la tendenza a dire, è vero, ce l'ho più bassa, allora tolgo la pastiglina in più che mi hanno dato, perché invece non si deve fare. No, allora, normalmente io credo che anche il medico di base dà delle indicazioni in questo senso, per esempio con la vicinanza e la stagione calda, se la terapia comprende più farmaci di tutti questi, possiamo dimezzare o addirittura eliminare questo, perché è meno importante o meno influente di altri. Ricordiamoci anche che la maggior parte degli ipertesi, purtroppo non hanno solo questo fattore di rischio, ma hanno anche dei danni d'organo, o hanno avuto degli eventi cardiovascolari o cerebrovascolari, per cui alcuni farmaci sono sicuramente più essenziali, e altri lo sono meno, quindi per esempio col caldo possono essere, come dire, eliminati. Quindi di solito le indicazioni al paziente vengono date in partenza. Nel dubbio comunque una telefonata al medico di base, direi che sia assolutamente necessaria. Infatti raccomandiamo questo, come nell'impostare la terapia si sale gradualmente, adattando la terapia in base alla risposta, anche quando dobbiamo ridurre i farmaci, bisogna sempre ridurli gradualmente, perché ogni individuo risponde alla sua maniera, quindi possiamo avere o degli sbalzi, se noi sospendiamo improvvisamente una terapia perché abbiamo trovato un valore basso, magari il giorno successivo troviamo dei valori molto alti, e loro ci insegnano che queste oscillazioni molto ampie sono più dannose che non mantenere la pressione costantemente un po' più alta del normale. Quindi l'importanza di consultare sempre il medico prima di variare la terapia. Quindi non fare una cosa, fai da te. Fai da te, insomma. È logico che se una volta dovessero trovare 90 di sistolica, però lì vuol dire che è successo qualcosa. Certo. E quindi il medico va a maggior ragione interpellato. Ecco, noi abbiamo preparato un servizio che parla proprio dell'ipertensione. guarderai il servizio e poi lo commentiamo insieme. Un attimo che arriva. L'ipertensione è un aumento stabile della pressione arteriosa nella circolazione sistemica. Ci sono diversi valori che indicano diversi tipi di ipertensione in base alle ultime linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si parla di ipertensione lieve con valori compresi tra 140-159 la massima e 90-99 la minima. Ipertensione moderata 160-179 valori della massima e 100-109 valori della minima. Ipertensione grave maggiore di 180 la massima e maggiore di 110 la minima. Ovviamente le valutazioni della pressione vanno fatte tenendo conto della presenza di fattori di rischio e dell'età del soggetto, ma in ogni caso si possono identificare due forme di ipertensione. Quella primaria quando non si riconosce una causa specifica del rialzo o secondaria quando possono esserci cause renali, endocrine, congenite o alimentari. La pressione alta persistente può avere gravi effetti sul cuore, sul sistema nervoso centrale, sulla retina e sui vasi arteriosi. L'unico modo per scoprire di essere ipertesi è quello di controllare costantemente la pressione. Una volta scoperto di essere ipertesi, esistono numerose classi di farmaci artipertensivi in grado di tenere sotto controllo la pressione, riducendo il rischio di eventi vascolari come ictus ischemico o infarto miocardico acuto. E i sinebitori, calcio antagonisti, betabloccanti, diuretici sono solo alcuni esempi di farmaci che agiscono in modo diverso e vengono prescritti a seconda delle esigenze di ogni singolo paziente. Esistono però delle terapie non farmacologiche che possono aiutare a ridurre l'ipertensione con o senza l'ausilio di farmaci. Il controllo del peso corporeo, la limitazione del consumo di alcol, la pratica di esercizio fisico regolare, la limitazione del consumo di sodio con la dieta ne sono alcuni esempi. Ecco, dottor Zanini, il servizio ha toccato un po' di argomenti che abbiamo già affrontato prima. Quando una persona scopre di essere ipertesa, quindi voi gli fate una diagnosi, decidete qual è il farmaco che può essere più adatto. Quindi abbiamo diuretici, betabloccanti. Come agiscono questi farmaci? Che differenze ci sono? La domanda è specifica e bisogna in genere fare medicina. Però ci sono vari farmaci. L'ultima tendenza è quella di utilizzare più farmaci per controllare la pressione arteriosa. Cioè si preferisce usare più farmaci a dosaggio medio, non arrivare al dosaggio massimo dell'utilizzo di farmaci. Per utilizzare una combinazione di farmaci e poi utilizzarli anche nell'arco della giornata. E dopo ogni farmaco ha alcune specificità che si utilizza per esempio e poi i criteri sono molti. Sono di tipo fisiopatologico ma anche di tipo economico. Per cui gli americani che sono molto pratici utilizzano come primo farmaco il diuretico anche perché in genere i diuretici sono farmaci vecchi e costano poco. Noi invece in Italia siamo un po' più sofisticati e utilizziamo altri farmaci perché hanno degli effetti metabolici più favorevoli. Per cui in genere come primo farmaco utilizziamo il sartanio e gli acinibitori che però sono più recenti e costano di più. Per cui voglio dire i criteri sono molti e poi bisogna vedere anche quali sono le patologie associate. Se uno ha uno scompenso cardiaco è giusto utilizzare il diuretico perché fa perdere liquidi per cui se invece uno ha un tipo ansioso è meglio utilizzare un beta bloccante perché cerca anche di curare una delle possibili cause dell'ipertensione. Però la regola fondamentale è quella di utilizzare più farmaci associati perché si è visto che controllano meglio l'ipertensione e soprattutto limitano gli effetti collaterali che tutti i farmaci poi hanno. Questi farmaci possono creare dipendenza? Nel senso alla fine una persona che la prende per tanti anni un tipo di farmaco può non avere poi più effetti perché l'organismo si è abituato? Per alcuni farmaci si è studiato che dopo due o tre anni c'è un lieve decadimento della capacità di agire del farmaco per cui potrebbe anche essere necessario ogni tanto fare anche una rotazione dei vari farmaci però quello che è più importante è che il paziente continui a fare una terapia ipertensiva cioè il problema vero che c'è che appunto perché a volte e spesso noi consigliamo una politerapia il paziente si stufa e sospende senza consultare nello specialista nel medico di base e a questo proposito si è visto che c'è una diversa compliance a seconda dei farmaci alcuni farmaci sono tollerati meglio e il paziente li prosegue tra questi per esempio acinibitori e sartani e altri e magari danno qualche effetto collaterale in più ad esempio diuretici e sono per cui anche a seconda della classe di farmaci c'è una migliore o peggior tolleranza per cui a volte bisogna tenere presente anche questo nel somministrare e nell'invogliare il paziente a proseguire questa terapia che in genere sono terapie quasi a vita o comunque molto lunghe per cui ora ci separiamo per qualche istante di pubblicità ci vediamo tra pochissimo grazie a tutti